Sì, sono Savio di Apple TV Black e benvenuti all'estrazione del contest che vede in palio Modern Combat 4 Zero Hour Allora, andiamo a verificare se l'ultimo partecipante è inserito e Zeno, perfetto Sono le 12.05 Allora, come al solito abbiamo inserito nel nostro database i partecipanti Ecco, questa è tutta la lista E l'ultimo partecipante, come vedete, è Zeno Bene Allora, procediamo con il primo estratto Ovviamente abbiamo eliminato alcuni doppioni e qualcuno che ha fatto il furbetto E nulla, procediamo col primo estratto Auguri, buona fortuna a tutti Vi ricordo che i nostri contest sono i migliori Partecipate e se avete la possibilità fate un po' di pubblicità al nostro blog Andiamo con il primo estratto Che è Vito Ha partecipato il 5 alle 11.47 Facciamo una foto per la pubblicazione del vincitore sul nostro blog Passiamo al secondo estratto del gioco Che è Itavix Ha partecipato il giorno 6 alle 21.57 Andiamo con l'ultimo estratto Ciao a tutti, io vi saluto e ci vediamo sul blog Grazie di aver partecipato e continuate a partecipare Raffaella G. ha partecipato il 6 Complimenti a tutti, alla prossima Ciao Grazie 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 Grazie